Ciao a tutti, bentornati nel mio canale, io sono Adanai e anche oggi, visto che è giovedì, siamo in compagnia del miscetto di lana russo Arrival, vabbè, insomma, Arrival, e continuiamo da dove avevamo lasciato, anche se ho lasciato un segreto, l'avevo presi tutti la prima volta che non ricordo dov'è il quinto, però direi di andare avanti, perché insomma non mi sembra molto divertente per voi riguardare nuovamente il primo livello, ecco, quindi ritorniamo nella casa dell'anziana signora, qui vedete che ho trovato i quattro segreti, me ne manca uno, che prima o poi mi metterò d'impegno per trovarlo, perché non posso permettere che mi resti vuoto. Allora, qui andiamo avanti, andiamo all'altro ricordo, il prima foto che ci ritroviamo di fronte è il mare, andiamo a visitare il mare, due bimbi che raccogliono, che raccolgono conchiglie forse, ed eccoci in gioco, entriamo in questo nuovo livello, il mare, ed è bellissimo vedere questa pineta, stiamo subendo una pineta con tutte le pigne cadute per terra, mi piace molto come ambientazione, allora, vediamo, esploriamo questo nuovo mondo, bellissimo, il red, voglio mi via, oh, ricordo, due ragazzini che fanno volare la pelone verde, bello, ok, lo prendi come ricordo, vero? Sì, eccolo, oh, una zona di ristoro, qui, no, mi picchia qua, ok, quindi lì, no, allora, attina, ci arriviamo, sì, ma cade, perfetto, realmente ci serve, però, andiamocelo ci serve? Sì, ci serve, è stato utile, io sono curioso, di qua che c'è? Si deve andare di qua? Non lo so, no, mi sa di no, no, ok, non c'è nulla, posso tornare su, dai, ready, come il mio gatto, vai, 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 ola, vediamo, è legato? Sì, ho sbagliato, ho pigiato esse, però, mi è la comodità d'aver legato qui, a che ora posso, qualsiasi cosa accada, posso risalire di lì, e ora, ti frego, perché togge, ehi, allora, asostrunz, tira, forse ci deve servire la catapulta, perché sennò lassù non vedo come ci possiamo arrivare, no, aspetta, però, da questa parte, tesoro, dai, dai, micetto, verso l'infinito, e se non piugiavo S, ce la potevamo anche fare, io confondo sempre questa S con la D, ma sempre, no, non inciampare, tesoro, ora piugio la D, promesso, vai, no, vabbè, ma, cioè, ma sono una pippa, che mi succede oggi, ola, cioè, ragazzi, neanche un fachiro, abbiamo un equilibrio, io non ce l'avrei, io non lo avrei, andiamo un po' più concentrate, vai, sì, l'abbiamo preso, ok, sì, sì, lascia, lascia, ora, leghiamoci qua, c'ha legato, sì, allora, qui sicuramente andrà presa una bella rincorsa, verso l'infinito, e oltre, ma io legherei, non so per ne leggere, scrivere, gli darei una legata, ecco, infatti, vedi, lega, perfetto, quindi sarà la nostra catapulta, olle, ce l'abbiamo fatta, l'aquilone, quello è quello del ricordo, che facevano volare ai tuoi ragazzini, oh, ma l'aquilone, sì, l'aquilone la comando io, ok, ah, ragazzi, mi sa che sto per morire, mi sa che sto per morire, yes, ok, devo comandarlo, allora, questo aquilone, andiamo, bello, andiamo, stiamo più alte, basse, non so nemmeno io, ok, qui stiamo, vorrei passare tra questi due alberi, ma forse ce l'ho fatta, ah, troppo, ho sbagliato, no, no, sono ancora qui, no, non sono ancora qui, sono morta, è diverso, vediamo quante volte morirò, prima di riuscire a raggiungere l'altra parte, ovunque, qualsiasi sia il posto devo raggiungere, se io passo di sotto a quei rami, invece di volerci passare nel mezzo, non è uguale, sali, 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 non esageri, non stiamo neanche troppo basse, perché, oh, c'è un segreto, un segreto, dobbiamo prenderlo, no, torna indietro, no, no, non vodevo prendere quel segreto, perdonatemi, mi sono incaponita, voglio assolutamente prendere tutti i segreti, dovrò tornare anche nel primo e ricercare quello che mi ha sfuggito, però, ripeto, lo farò in un momento diverso, perché mi sembra noioso per voi riguardare di nuovo Cardi ed Erbacce, vediamo, stai più su, stai più su, stai più su, non troppo su, più su, più su, più su, vai, vai, dai, preso, non ti, no, no, non ti incanta ora, no, non ti Ah, no, l'abbiamo preso, ma a caro prezzo, allora, magari taglierò qualche tentativo fallito, o forse no, vediamo, se sbaglio anche questa, poi effettuerò dettagli, eh, stai, sali su, troppo su, Amora me l'ha preso ormai, ok, a posto, meglio, ci siamo facilitate la vita, ok, siamo arrivate, oh, abbiamo preso anche il segreto, perfetto, ok, oh, andiamo con calma, ragazzi, ok, c'è qualcosa che mi può interessare, non credo, mi sa che sotto c'è una valanga di pini, no, infatti, non mi interessa, torniamo su, va giù con calma, con calma, piano, 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 non sappiamo cosa troviamo, ok, scende con calma, pianino, pianino, bellissimo, vedete il paesaggio, cioè, no, vabbè, io amo questo gioco, lo amo alla follia, ah, qui da legare, probabilmente sì, non lo so, io leggo, e lì c'è il filo, quindi, allora, scendiamo, forse sono scesa anche un po' troppo, un pochino più su, vai, oscilla, facciamo un po' di swing, no, ok, troppo su, vero, ora, no, troppo giù, ora era il momento, vai, lascia, scendiamo con calma, mori geratezza, senza fretta, come diceva il vecchio detto, chi va piano, va sano e va lontano, io come al solito, le cose che trovo, me le porto dietro, eh, tra l'altro è stato meglio da quella delle mele, quindi, ecco, vedi, sì, probabilmente non ce l'avrebbe fatta al nostro metto a salire, certo pigne, però, se vi metteste un pochino più, no, non risalire lì qua, eh, vedi che servivano, c'è un granchietto, cos'è, ci vuoi pensare, ah, sali, 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 c'è un segreto lì, sì, sì, ok, abbiamo trovato il segreto, ok, agganciamoci qua, sali, 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 oddio, oddio, per rivido, ok, ci arriva, sì, perfetto, dobbiamo tornare indietro, secondo me indietro non c'era niente, tanto, nelle rocce qua non ci possiamo nemmeno salire, quindi, no, vedi un po' più giù, vai, e ora, swing, oscilla, olè, sai cosa, ci andiamo, eh, con calma, non, non abbiamo fredda, oh, vedi, oh, jesus, aiuto, ok, ci stava per investire il tronco, già sono morta con quell'aquilone, non so quante volte, i gabbiani, no, vabbè, siamo in un molo, perché ci servirà questo, secondo voi, se ci servirà, non lo so, ma in realtà mi pare che non serva una beata, siamo un tesi, no, scendiamo con calma, oh, yeah, c'è anche le onde, che c'è di qua, non so mai, a volte in questi conicoli, c'è qualcosa, ah, il segreto, che avevo già preso prima, quando ho provato, ok, va bene, ma leghiamo, oh, strevando l'onda, sali, 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 bravo, e oscilliamo, ok, ce l'abbiamo fatta, addio, non so bene a cosa serva, però, no, ok, ok, non risaliamo di qui, non risaliamo di qui, sali, oddio, stiamo su, stiamo su, stiamo su, sai che facciamo, leghiamo, vai, torna su, dove posso calarmi, ok, oscilla, veloce, andiamo, ferma, facciamo passare l'onda, onde sulle sponde, no, dai, non posso essere stata così fava, da non aver piaciuto l'addi, e, ferma, ferma, ce l'abbiamo fatta, oh, che filo, ok, qui, qua non prende, qua non ci prende, qua cosa c'è, niente, questo coso prossimo, posso prendere, forse esce dall'osno, non ci pareva lì, sì, via, oh, non fare più questi scherzi, no, 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 ma ragazzi, cosa ho sbagliato, Riprendiamo il nostro tronchetto E ce lo portiamo qua Vai No, forse non ce la fa venire un po' più qua Sì E se non pegassi la E Sarei molto felice Senti ma se io qui Leggo un tanto perché è diverso dagli altri Quindi Brilla più che altro Ok Allora Uscilliamo No andiamo Forse è da qui Uh, sì Devo tirarlo? No E allora probabilmente ci devo fare un ponte Probabilmente sì Per saltare di qua Esatto Un gabbiano Allora con calma Vediamo cosa dobbiamo fare Oh Filo, filo, filo E lì ci possiamo arrampicare L'ostrica Ci serve St'ostrica Non lo so Però se me la fa Non lo so Forse ci serve Bisogna buttarla in acqua Prendila Ah ma qua non viene Però secondo me serve Sì è per farci andare il granchio E io sto morendo È perché certo Se con la freccia non premo su Ma premo a sinistra Non va Comunque abbiamo scaperto Che l'ostrica ci serve Dobbiamo rubarla Il gabbiano Per darla Il granchietto Vai La di giù Buttiamola In pasta Il granchio Oh Non mi Non mi fare del male Io sono buono Vado a cacciare Sono un cacciatore di ricordi Ed emozioni Perché questo micino È proprio Un cacciatore di ricordi Scusami tesoro Non mi fai arrivare lì Eh Ci ammazza No ragazzi Ci sono rimasta malissimo Questa non me l'aspettavo Giorno Ma come Ci ha fatto a pezzetti Ma povero il mio Red Ma non è giusto Cioè oltretutto E noi sfamiamo I suoi amici No 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 Ti prego Ok Ok Quindi c'è sicuramente Un modo per togliere Quel granchio di lì Il nostro granchio killer Con quelle che Ele che ci ghigliottino No no Io stavolta Ti scanso proprio Eh Non guarderò più i granchi Con gli stessi occhi Ok No, no, no. andiamo? c'è da prendere questa su ma ah ok poi bastava aspettare perfetto andiamo via prima e torni a sto granchio assassino che ci ha fatta a pezzettini proprio ok andava bene ma ero troppo lontano ora si allora andiamo giù con cautela non voglio brutta sorpresa ok non succedeva niente un ricordo non capisco bene cosa sia onestamente mi sembra medusa e la bestia con qualche chiunque ho capito cos'è non mi riesce a capire che cosa sia forse era il secchiere quando cercano granchi bimbi però bimbi un pochino non ci ci sono niente oddio quest'acqua quest'acqua malefica mi odia quest'acqua oddio sale 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 e lega buttiamolo giù però io ho paura a scendere ragazzi ve lo giuro facciamo passare l'onda perchè ora arriva forse dobbiamo stare su questo non lo so eh sta a vedere così che sono morta senti te però tesoro vieni a me perchè mi sembri utile mi sembri molto utile torna su torna su torna su torna su ok no ho sbagliato ok ormai aspetta altra onda tanto queste cose vanno fatte con calma non si possano fare di fretta e furia ora torna su però velocemente oh bellissimo forse devo fare la scimmia cioè in realtà ci si poteva arrivare benissimo lo stesso probabilmente non oh cavolo qui non è che resti proprio al sicuro quindi muoviamoci andare via di più sta qui perchè ora arriva l'onda cioè comunque è veramente bello oddio aiuto sono finita ok dopo essere morte svariate volte e dopo aver capito che mentre per noi esseri umani il mare è un posto meraviglioso abbiamo anche capito che per lui non lo è affatto però visto che ho pensato visto che mette sopra non solo noi l'onda ma anche quel salvagente vuoi vedere che ci serve anche di là possiamo per caso portarcelo indietro proviamo a vedere mi stiamo qui appese mi sa che ho fatto una minchiata ragazzi sì sì dovevo stare dietro al salvagente e non davanti ok forse ora ce la facciamo ok ok tiriamolo più qua ok oddio ce l'abbiamo fatto lega ma ehm io ho paura che lui non mi si attacchi non lo so c'è questo timore sì si è attaccato invece c'è pure che non ci sembra una vera un granchio lui è attento alla nostra vita se lui è lì probabilmente quella cosa ci serve dobbiamo anche chiudercelo no ma perché dovevamo fare questa cosa però ora che l'abbiamo catturata ci fa da ponte poverino ma abbiamo sacrificato il granchio no dai mi dispiace è vero che ci mangia però no cioè c'è pure quello nascosto adesso questa è una specie di peschereccio cos'è comunque sembra quello dei pescatori porca miseria no mi sa che ho preso uno stompo ok andiamo giù con caldo e lentizza ma altri segreti non mi sembra di averne visti vuoi per caso oddio ok qui c'è una saliamo per carità signore questi ci fanno il mazzo allora ragazzi vediamo se questa è la volta buona no non è la volta buona perché ce l'hanno con lui questi benedetti swing swing no io volevo farti vai un po' in su swinga 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 oh è questo il modo non ce n'è oh è stata la volta buona abbiamo passato la sequenza di ragni malefici che ci hanno che ci hanno non ci hanno dato pace no ops forse abbiamo semplicemente ah forse però se io qui ce lo levo e poi vado di qua è sempre tirando perché mi fa da perno vai 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 perfetto qui c'è del filo prendiamolo wow c'è una parchetta forse la signora ci andava a pesca ok saliamo e annoda non so se ci arriva ehi si ci arriva ci arriva comunque anche da qui quindi non era un grande problema questo è abbastanza semplice vai lega ok è diventata una catapulta che c'è in quelle scatole posso portarmelo oh ah oh no se lui mi porta lassù perché altro ci manca un segreto secondo me siamo alla fine quindi no voglio esplorare un altro po' se c'è modo non c'è modo vabbè provo un'ultima volta se no do forfè non so se c'è un segreto più che altro non li ho presi tutti e cinque non li ho contati cinque inizio un'altra lapinita nell'acqua oh eccolo eccolo aspetta non sprechiamo il filo ripassiamo di qua ragazzi non sprechiamo il filo c'era un altro segreto ripassiamo di qua io non voglio sprecare il filo perché il nostro per il nostro piccolino il filo è la vita ciao ce ne andiamo in barca dove andiamo? sarà la fine del livello? bellissimo il viaggio nella barca mi è piaciuto tantissimo là c'è un faro siamo a Brindleton Bay sì siamo arrivati in fondo a livello c'è il pesciolino bravissimo non cadere questo lo fa da solo non l'ho fatto io mi ha preso il pesciolino no il mare no da ragazzi che dolcezza cioè e aggiungiamo il pesce vediamo cosa abbiamo quali foto abbiamo sbloccato invio il mare il mare alcuni luoghi sono lontani molto lontani dalle preoccupazioni e dai problemi quei posti sono dei tesori no ecco l'aquelone due ragazzini il mare i fiori oh sott'acqua cioè il bello è che sono tutte le foto ecco cos'erano quelle due che dicevo sembra la bestia ingrassata in medusa erano due bambini che cercavano ok il granchi che però per il nostro amico non sono stati affatto amichevoli la barca a vela e il pesciolino che abbiamo raccolto e qui ci inizierà poi il terzo capitolo che noi vedremo la prossima volta io vi mando un grosso bacio spero che anche questa seconda parte vi sia piaciuta vi invito a registrarvi si registrarvi a iscrivervi al canale per essere aggiornati sulle novità e se vi va lasciatemi anche un commento e un like un bacione ciao